bene abbiamo appena chiuso un midland alan 48 togliamo un po di fruscio qua siamo sul canale 5 della banda cb andiamo a vedere nel vattmetro il power nella scala rossa cambio siamo a poco più di un watt di portante ola 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 cambio ola ola cambio cabal cabal cambio bene tremendo in su questo pulsante andiamo sul canale 45 adesso da vedere qui è uguale però guardiamo un po la percentuale di modulazione fondo scala l'ho già tarato la scala è quella la penultima 3 3 3 3 3 3 siamo a filo di voce 1 2 3 prova radio vediamo come spinge questo midland alan 48 lievemente rivisto cambio attenzione canale 45 ascoltate me cambio beh direi che la modulazione come dire originale andava al 60 per cento passiamo al centro arriviamo a fondo scala ola cambio attenzione canale 45 questa è la cosa ecco cambio l'eco si regola col migain che adesso già tenuto forte ola cambio speriamo che all'amico bisognoso cui ho dovuto fare quasi per dovere morale questa radio se la goda bene sul suo camion vero paolo questa radio tua attento paolo paolo ascolti la tua radio cambio quindi sendo giro ecco 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 ecco